Torna il Battipaia Vanity Music Festival in piazza Mendola, l'evento organizzato dall'Associazione Giovani di Notte che era precedentemente previsto per lo scorso primo giugno ed è poi stato posticipato a causa del maltempo al 22 giugno. Orlando Cianci, lo speaker della serata, allora quali sono le novità introdotte per questa seconda edizione e chi saranno i protagonisti? È un onore parlare con voi oggi e avvisare a tutta questa bella gente che ci sta guardando, Battipaia 1929, lo dico bene? Ci saranno delle novità davvero davvero fantastiche e uniche. Abbiamo rimandato dal primo giugno al 22 per una questione meteorologica e poi come voi ben sapete l'attesa aumenta il desiderio. Come novità avremo un palco tutto nuovo, tutto con novità in qualsiasi campo sia dalle luci sia degli effetti speciali e soprattutto anche dei grandi protagonisti che ci saranno lì il 22 giugno dalle 19 qui a piazza Mendola. Ve li spiego subito. Ci sarà Christian Liguori con il suo DJ set, Leo Wan, il nostro amico Pachi Sibillo e poi ci sarà uno show fantastico di Samurai J. Ad accompagnare tutta la serata ci sarà il DJ set accompagnato dalla mia voce del DJ Kevin Russo che saluto a Kevin e saluto anche al presidente dell'associazione Giovani di Notte che ha organizzato questo fantastico evento.